Dove stai andando? È il mio provvedimento Davvero? Eh sì Ah ma io pensavo solo in casetta, no? No, no Però ti tengo la porta, guarda Grazie Mi devo mettere sto rabbo rosso, eh? È uno scherzo Non so, la scopa non mi sembra poco sto coso Sembra poco pratico Forse servirebbe un aspirapolvere, credo Però, io ci provo No, 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 no No, 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 no